legge son ferie e va più crolla tutto quanto ragazzi è iniziata la fase importante della chiusura del ciclo annuale di bitcoin il non si lo no le news bla 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 mi sono già espresso a tal riguardo come secondo me è diciamo anche io sposo una corrente abbastanza importante relativamente a questo concetto delle news e dell'importanza delle news negli equilibri di mercato cioè che fa riferimento al fatto che le news siano semplicemente un enfatizzatore di quella che è una fase già prestabilita quindi la questione legata ad il onno si è il onno fa crollare lui i mercati è assolutamente accantonata per quanto vi riguarda ragazzi sapete bene già da mesi che stiamo aspettando la chiusura del ciclo annuale di bitcoin dopo i grandi rialzi dello scorso anno e anche di inizio anno abbiamo atteso marzo dopo marzo avevamo la finestra maggior giugno è arrivata alla finestra maggio giugno tutto è lineare secondo i piani ovviamente poi tutto gira intorno a questa cosa ragazzi quindi escono le news tutto viene enfatizzato un classico ragazzi è un po il cane che si morde la coda l'uovo la gallina che è nato prima insomma il concetto è quello comunque oggi andiamo a fare il punto sulla situazione bitcoin star crollando insieme si porta dietro tutte le al coin ovviamente tranne quelle che vi ho detto ieri nel video della domenica dove ho detto ai ragazzi le cripto che possono proteggerci contro un crollo di bitcoin ovviamente in valuta bitcoin avevo specificato in quel video stanno leggendo 3 barra 4 su 5 stanno leggendo addirittura con performance positive contro bitcoin quindi va benissimo meglio di questo non si può fare quando i mercati fanno meno 10 meno 10 meno 10 l'unica alternativa ovviamente è vendere tutto e passare a usd cosa ho fatto io tutti lo sanno perché sul canale telegram ho scritto tutte le mie posizioni sono flat già da un po per quanto riguarda il breve e il meglio ho scritto tutto lì e per quanto riguarda la parte old dovevo scendere fino al 50 per cento non ci sono riuscito sono sceso all 80 per cento la scorsa settimana mi è rimasto sul gruppone qua un 10 per cento in più di old che volevo chiudere non ci sono riuscito lo dico francamente perché i mercati hanno anticipato un po quello che mi aspettavo e quindi mi è rimasto questo pezzettino non mi preoccupa più di tanto perché io sono fiducioso nel prossimo anno per quanto riguarda bitcoin e quindi non mi preoccupa più di tanto però ragazzi che faticata e allora andiamo a fare il punto della situazione e che cosa sta succedendo sui mercati così facciamo il briefing dove siamo arrivati tutti i livelli che vi avevo detto la scorsa settimana l'analisi ciclica anche ancora una volta ha dato un'indicazione chiarissima ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e come sempre lasciatemi un like perché mi date una mano con questi video poi fatemi sapere anche voi come state gestendo la fase di ribasso levate pronti o non pronti ragazzi queste fasi si gestiscono sempre solo in un unico modo essendo pronti anticipatamente tra le altre cose vi ricordo che domani uscirà la super offerta per quanto riguarda il corso pro di trading on finalmente siamo online con un super corso però sto registrando il modulo relativo alle elezioni domani arriverà un bonus e l'apertura del corso un'offerta ovviamente è perché qualche giorno ragazzi e sono contento anche di questa cosa perché anche in queste particolari fasi secondo me si enfatizza ancora di più l'importanza di essere molto formati suoi mercati è una cosa che non no non può mancare mai tra le altre cose proprio nella giornata di ieri ieri sera alle 11 mi sono connesso sulla mia academy ragazzi una tonnellata di commenti positivi da parte degli iscritti nella chat bitcoin dove parliamo di bitcoin tutti erano estremamente contenti di essere di aver capito tutto quello che stava succedendo di essere preparati perché dopo un anno dopo mesi che sono in academy finalmente erano preparati a questa fase ribassisti hanno gestito tutto bene alcuni in forte guadagno perché hanno fatto short io non faccio short per loro sì e hanno giocato a ribasso e ragazzi siamo qua tanto tempo stiamo tanto tempo a fare formazione contenuti gratuiti la più grande soddisfazione al di là delle questioni classiche retoriche economiche sì o no ragazzi la più grande soddisfazione è vedere quei messaggi nella giornata di ieri notte alle 11 quando il mercato crollava e aver visto tante persone che mi ringraziavano lì perché erano riuscite a capire tutto quello che stava succedendo a gestire la loro posizione io al di là di tutto per me questo è il mio traguardo ragazzi e io volevo pubblicamente ringraziare tutte le persone in academy ieri che hanno scritto questa cosa perché è veramente il cuore si vede in queste situazioni e io sono contentissimo perché ci massacriamo noi ogni giorno davanti youtube ragazzi a fare questi video per me quella è la più grande soddisfazione personale va bene allora scusatemi questa cosa ogni tanto un po di enfasi un po di emozione ci sta non facciamo sempre i robot a droidi star wars allora ragazzi siamo nella fase di close di bitcoin andiamo a vedere quello che sta succedendo quali sono i livelli di acquisto che potremmo monitorare per la prossima settimana barra fine questa allora già domenica vi avevo accennato che la settimana in questione era la più difficile di tutte è iniziata malissimo normale che sia così abbiamo toccato il minimo nella giornata di oggi che è stato intorno a 42 mila e tre stanotte in pratica secondo me ragazzi ancora prima duro per dirlo ma io credo che non sia così il primo livello di target che vi avevo detto la scorsa settimana di questa fase di bassista era 44 poi successivamente si scendeva a 38 io credo che nel mercato sia sceso molto velocemente e un po troppo velocemente perché per esempio proprio qui il 13 mi aspettavo una maggiore resistenza per qualche giorno vi avevo già accennato nella famosa live che abbiamo fatto la scorsa settimana che io non pensavo minimamente a un rimbarzo corposo di bitcoin tanto è vero che vi ho detto questo è semplicemente un anticipo quindi mensile ribassista di marzo aprile mensile ribassista aprile maggio quindi il mensile di aprile ribassista maggio peggiora ovviamente perché come vedete la fase ribassista di maggio è più pronunciata e sottolinea appunto l'importanza di essere in un ciclo annuale tra le altre cose in questo caso il minimo in questione va anche al di sotto del minimo del 28 di febbraio indicando in maniera chiara che qui siamo davanti a addirittura tre mesi negativi di trend sul mercato quindi abbiamo un minimo qui è un minimo qui ragazzi che è inferiore ovviamente parliamo di trend laterale ribassista non è che parliamo di disastri però ovviamente ci aspettavamo la chiusura del ciclo annuale questa è una chiusura economale impossibile negare quindi alla fine il mercato da sempre le sue indicazioni ovviamente bisognava essere preparati il punto di uscita ottimale era questo io stesso qui sono stato un po confuso quindi sono uscito solo con un 20 per cento come vi ho detto prima non con il 30 per cento che era la uscita l'uscita corretta però ovviamente ragazzi non ho né posizioni in medio termine tutto flat anche il breve è tutto protetto semplicemente mi è rimasto questo 10 per cento però vabbè ok non vi nascondo che è sempre mi da sempre fastidio non si non passano mai queste cose anche dopo anni 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 di trading allora ragazzi questo per farvi anche capire come è difficile la parte emotiva in ogni caso dei mercati però ovviamente sicuramente con una serie di attenzioni si gestiscono palesemente diciamo in maniera efficiente queste cose allora dove siamo diretti allora ragazzi questo è il ciclo mensile in questione è già ribassista quindi il ciclo mensile continuerà a scendere fin tanto che non chiude il mensile prima del nuovo mensile non si ferma la discesa questo è importante intanto ricordarlo perché queste sono le fasi ribassiste quindi ogni rimbalzo di bitcoin viene venduto dal mercato in questo momento oggi siamo a metà di un ciclo settimanale che dovrebbe spingere altri quattro giorni poi nella fase finale con un nuovo minimo quindi abbiamo questa settimana che tecnicamente bitcoin dovrebbe aggiornare il minimo che abbiamo visto oppure magari fare un doppio minimo se tutto va bene ma a livello di tempo non siamo ancora in sintonia con il fatto che il mercato abbia raggiunto i suoi livelli moltissimi magari stanno iniziando a dire accumulo non accumulo ragazzi il mio pack inizia fra tre giorni quindi fra tre giorni ci sarà di nuovo l'attesa della candela rossa e l'anno è il disegnimento del nuova della nuova tranche ragazzi è incredibile come una strategia definita a gennaio sia stata quella ottimale per gestire questi mesi alla fine dell'anno faremo anche i conti e vedrete proprio in maniera dettagliata come l'aggiunta di una semplice regola e una semplice strategia di analisi tecnica migliora il vostro ingresso anche per un anno intero quindi con l'utilizzo della strategia del pack che è già di per sé inefficiente però se utilizzata con occhio ok allora mi migliora anche la performance dove siamo diretti quali sono i livelli di buy allora ragazzi andare a fare un buy the deep contro trend contro una chiusura di un ciclo annuale è una cosa delicata da fare solo ed esclusivamente se siete molto esperti e formati nel trading quindi sconsigliata vivamente a tutti in ogni caso questa zona qui ovviamente non sono così finanziari questo ormai avete capito i disclaimer tutta quest'area è una zona di buy the deep se in concomitanza con la chiusura del ciclo mensile che dovrebbe avvenire entro una settimana più o meno ok quindi se ci sarà per esempio un flash crash di bitcoin su questi livelli potrei anche decidere di iniziare una fase di accumulo questi flash crash sono tra i 40.000 e i 38.000 un po 37 questa zona qui al di al di sotto di questa fascia diventa molto delicata la situazione se bitcoin arriva a questi livelli ci dobbiamo aggiornare perché soltanto una view che io non vi ho mai portato sul canale ragazzi ok ma ce l'ho già l'ho già guardata soltanto una view indicherebbe negatività per tutto l'anno ok adesso io non voglio dire questa cosa che non mi piace perché io non sono di quella view però c'è una sola indicazione di analisi tecnica in questo caso non è ciclica che potrebbe anche dirci che il massimo storico di bitcoin per l'anno 2021 è già stato fatto e abbiamo finito qui la questione la riprenderemo nelle prossime settimane qualora dopo la chiusura di questo ciclo mensile bitcoin inizierà ad avere comunque molta un rimbalzo con debolezza oppure a non riuscire a riprendere la sua scioltezza per i prossimi mesi quindi poi in quel caso analizzeremo anche questa questa seconda variabile che al momento diciamo non mi piace portare sul canale perché la vedo una cosa eccessiva allora da questo punto di vista questa è la zona di buy se è ovviamente il mercato arriva qui cosa si fa come si gestiscono spiegato nel corso basic le strategie by the dips come vanno gestite in maniera corretta perché il trend va sempre seguito trend is your friend è il mio motto lo sapete benissimo se un mercato crolla andare contro è un po difficile certo con le dovute accortezze magari una cosa del genere e proprio in concomitanza come chiusura del circo annumale si potrebbe anche tentare ovviamente centellinando gli ingressi e adoperando la strategia ragazzi queste cose ve le dico però che sia chiaro queste sono cose per tradere professionisti e formati se non lo siete lasciate stare assolutamente aspettate un'inversione di trend e poi entrate oppure seguite la mia strategia del piano d'accumulo quello che vi ho portato a gennaio va bene fate quella se non siete tre del formati non vi mettete contro un treno perché non si sa mai quello che può succedere io sono fiducioso che il mercato si riprenda ma non è sempre vero questa cosa quindi mi raccomando ok abbiate l'occhio sulla su riguardarvi quindi state protetti da certe cose andiamo a guardare anche l'analisi sul ciclo settimanale sulla candela settimanale ragazzi perché qui più evidente la questione intanto il break della media come vi dicevo nella live l'altro giorno ci avviciniamo alla mia area di bike avevo già indicato la scorsa settimana tutto giusto è finita questa settimana secondo me aggiornerà il minimo e proverà ad arrivare sotto i 40 malissimo da dire bruttissimo probabilmente non è detto che lo faccio però alla fine sono solo dieci punti già solo oggi mercato fa meno 10 basta un nulla ragazzi e ci arriviamo con grande scioltezza la questione è che probabilmente la chiusura del ciclo in questione dovrebbe essere alla fine di maggio e quindi ragazzi si mancano ancora due settimane perciò ci sarà da soffrire bisogna stare sul mercato bisogna starci veramente attenti a queste cose poi sicuramente qualcuno di voi in questo momento sta dicendo e aspettiamo il tweet di ilon tutti si tutti no io da vent'anni sui mercati ragazzi ho solo visto una cosa le news non servono a niente e ogni volta che il mercato vuole enfatizzare una cosa la fa in ogni caso quindi gira le news in maniera relativa le fa diventare positive quindi quando twitter e io non twitter a che mi fa schifo e se noi vogliamo farlo salire noi compreremo perché siamo tutti a favore della decentralizzazione contro il non allora andiamo a vedere invece eterium perché anche eterium sta dando questa indicazione di chiusura ragazzo eterium ha fatto due cicli solitamente termine o fa cicli così ragazzi vedete 80 90 giorni allora qui li ha uniti non si vede la metà non si vede la metà perché eterium era fortissimo quando i cicli sono fortissimi non si vede bene la metà sembrava qui un ciclo da da 67 oppure un ciclo da 90 classico non si capisce secondo me sta a metà perché semplicemente questo ciclo l'ha fatto qui e poi probabilmente sta andando a chiudere un'altra struttura ciclica un po più lunga quindi di dei classici 80 90 giorni questa fase intanto guardate la differenza notevole del ciclo di eterium contro quello di bitcoin è incredibile la differenza perché bitcoin sta facendo un trimestrale ribassista ragazzi ok è ribassista all'intero ciclo quello di et h invece è il contrario è rialzista cioè th non fa un mensile ribassista non so da quanto per farlo dovrebbe scendere sotto i 1.900 cioè una cosa incredibile quindi attualmente grande forza relativa per eterium bene allora buy the dip non buy the dip ragazzi compro quando arriva lì facendo anche una sintesi questa è quella di et h come vi dicevo ragazzi quindi 2.8 e 2.4 e poi quella di btc invece che sta tra i 4 tra i 40.000 41.000 40.000 qui e i 38 allora queste sono le mie buy the dip ma io compro qui non compro qui cosa faccio io ho già spiegato che mi metto a disposizione canale telegramma gratuitamente trovate link in descrizione per tutte le mie operazioni per accompagnarmi in questo mese perché ero a conoscenza del fatto che sarebbe stato un mese complicato ragazzi ok va bene così quindi in questo momento tutto quello che però io lo pubblico lì va bene quindi se volete sapere cosa faccio non dovete seguire le persone ma sviluppare una vostra strategia e non do consigli finanziari questo è fondamentale operare con buy the dip estremamente complesso e rischioso quindi se fate una cosa del genere e dovete essere formati è importante questa cosa scusatemi se ripeto per la decima volta ragazzi perché è importantissimo soprattutto quando siamo in tanti a fare queste situazioni fatemi sapere cosa ne pensate per oggi è tutto e bitcoin che la forza sia con te bella la chiusura annuale ragazzi però dai dopo ne parte un altro è il prossimo magari è quello giusto ciao ragazzi alla prossima